Parola, nostro fratello Gianni, ci portare il consiglio della parola di Dio, vini pure, Signore di Benedica, alleluia, grazie Gesù. Leggiamo, fratelli, in Matteo, capitolo 11, leggiamo dal verso 28. L'angelo di Matteo, capitolo 11, dal verso 28, dice così. Per le anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Fin qui la parola del Signore. Questo brano ci parla di qualcosa di importante, come tutto quello che c'è nella parola di Dio, ma a parte che è direttamente Gesù che parla e ci dà delle indicazioni su il riposo, su trovare quel riposo che permette all'anima nostra di ristorare, all'anima nostra di riprendere nuove forze. Di sicuro il riposo è importante, anche quello fisico, ma a volte cerchiamo il riposo fisico pensando che quello basta a farci prendere nuove forze. A volte siamo stanchi e pensiamo che magari con un po' di riposo possiamo sicuramente andare avanti, fare meglio le nostre attività. Ma c'è un riposo che proviene dal Signore ed è un riposo che solo Gesù può dare all'anima nostra. Non so se vi è capitato di prendere alcuni giorni, magari per andare in ferie, per staccare un po' la spina e ritornare più stanchi di prima. Vi è capitato? Perché non è bastato quello a farci riposare. Ma nel Signore noi troviamo il riposo vero, pieno. Quel riposo che ti fa dormire la notte, quel riposo che ti dà la pace che proviene dalla sua presenza. Un riposo che prende tutta la nostra vita e che niente può modificare, che niente può cambiare. Che non è questo riposo legato a quello che succede nella nostra vita. Possiamo passare anche delle difficoltà difficili, delle cose difficili nella nostra vita, problematiche, cose che passiamo come esseri umani, ma essere riposati in Cristo. Qualcuno a volte ci ha detto, non so se vi è capitato anche a voi, proprio nella prova, nella difficoltà, di dire ma come fai a essere così sereno? Come fai a essere così se stai passando questo momento difficile? E perché siamo in Cristo. E quando siamo in Cristo noi abbiamo il riposo, quello vero, quello che proviene dall'interno, non dall'esterno, non dalle circostanze. Non viene questo riposo dal fatto che abbiamo passato una giornata buona, un anno buono, un mese buono, oppure che tutto è andato bene al lavoro, che nella nostra famiglia non ci sono problemi. Non è legato a quello. Il riposo di cui parla Dio è un riposo legato alla sua presenza nella nostra vita. Quando Dio è presente nella nostra vita, allora noi siamo comunque riposati in Cristo. Certo, quando passiamo per delle difficoltà, sono delle difficoltà che ci segnano, che ci fanno forse cambiare qualche programma che avevamo, sono delle difficoltà che hanno presa comunque nella nostra vita, ma non ci tolgono quel riposo che viene da Dio. E Gesù di questo riposo sta parlando. Venite a me, voi che siete affaticati, oppressi, voi che non riuscite a trovare riposo. Spesso, parlando con le persone che evangelizziamo, anche alcune che vengono da dipendenze, da situazioni molto difficili e pesanti, quello che mi dicono è non riesco a riposare, non riesco a trovare riposo, non riesco a dormire bene, non riesco ad avere serenità nella mia vita. Perché questa serenità che tanto si cerca viene dal Signore. Chi non conosce il Signore cerca in qualche modo di riempire questo vuoto, di dare riposo, pace alla propria vita cercando altre cose che possano in qualche modo riempire quello che manca. Ma quello che manca è il Signore. Quello che manca nella loro vita è conoscere colui che dà riposo, colui che dà pace, colui che cambia la vita, colui che dà una gioia che è legata alla sua salvezza nella nostra vita. Può cambiare tutto e tutto cambia a volte, velocemente. Negli ultimi anni abbiamo visto come anche quelle certezze più forti che c'erano nella nostra vita, nel mondo stesso, sono venute meno in un attimo. In alcuni mesi è venuto meno tutto quello che forse era solido da anni. Ma quello che non viene meno è il Signore. E la nostra vita deve essere poggiata su Cristo. Il nostro riposo è Cristo. Stare alla presenza del Signore. Venite a me e io vi darò riposo. Non la religione, non gli uomini, non delle istituzioni. Io vi darò riposo. È l'incontro con Gesù che ti darà il riposo. Quel riposo vero, quel riposo che ti fa gioire, sorridere anche nelle difficoltà. Quel riposo che dà riposo a tutto il tuo essere, alla mente, al corpo, allo spirito. Il riposo che proviene da Gesù. Io ti darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco. Il gioco, sapete cos'è? È quell'attrezzo che si mette ai buoi per farli camminare in coppia, no? E questo gioco poi è collegato di solito un aratro, no? Per fare i solcri nel terreno. E il gioco è un attrezzo che ti costringe in qualche modo a camminare in coppia con l'altro animale, no? L'animale non può andare a destra o a sinistra da solo, non può fermarsi o camminare se non insieme all'altro animale a cui è collegato. E Gesù dice imparate da me, prendete il mio gioco. Dobbiamo imparare a camminare insieme a Gesù. Avere il suo gioco vuol dire camminare al ritmo di Gesù. Avere il passo di Gesù. Camminare nella stessa direzione di Gesù. Avere il gioco di Gesù vuol dire che la nostra vita dipende da Gesù. Vuol dire che la nostra vita è nelle sue mani ed è lui che detta la traiettoria. È lui che decide se dobbiamo fermarci. È lui che decide se dobbiamo continuare. È lui che decide. È il Signore. Se abbiamo il suo gioco abbiamo riposo perché lui ci garantisce il passo giusto. Imparate da me. Certo, per forza dobbiamo imparare da Gesù se abbiamo il gioco di Gesù. Se prendiamo il suo gioco, se prendiamo il suo andare, il suo camminare. Imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le anime vostre. Vuoi riposo? Cominci a camminare insieme con Gesù. Non davanti, non dietro, a fianco a Gesù. Fatti portare da Gesù, impara da Gesù qual è il passo giusto, qual è il cammino giusto. Ci sono alcuni che vanno avanti rispetto a Gesù. Vanno troppo avanti e poi si trovano soli, fanno quelle corse a lungo percorso, quelle maratone, però corrono come se fosse invece i cento metri e dopo un po' sono stanchi, si fermano. Invece Gesù ha un andamento costante e come credenti dobbiamo avere lo stesso cammino di Gesù, lo stesso passo di Gesù. Riposo e io vi darò riposo alle anime vostre perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Alleluia. Noi vogliamo trovare riposo in Gesù e mentre cammini con Gesù succede un'altra cosa bella che lasci il tuo segno, il segno dell'aratro, il segno del lavoro che fai insieme con Gesù perché il gioco è sinonimo anche di lavoro, no? Si mette il gioco al bue quando lavora il bue, quando è fermo non c'è bisogno che gli metti il gioco. Quindi Gesù sta dicendo cammina insieme con me lavorando nell'opera mia, nel mio terreno e mentre cammini e hai riposo perché sei con me lasci un segno nel terreno, lasci il segno dell'aratro, il segno del lavoro che proviene dalla mia presenza nell'opera mia e questo segno rimane, è un segno che non solo rimane ma porterà frutto perché attraverso quel segno poi saranno piantate dei semi e quei semi porteranno frutto. Impariamo a camminare con Gesù è anche il tempo nostro è il tuo tempo adesso il tempo di prendere il gioco di camminare insieme con Gesù ma è anche il tempo di lasciare il tuo segno anche nell'opera di Dio di lasciare un segno che rimane di lasciare un segno che porterà frutto domani toccherà ad altri lasciare il segno cambierà non Gesù cambierà cambieranno i servitori di Dio sarà qualcun altro a portare il gioco insieme a Gesù e lasceranno altri segni ma noi vogliamo lasciare il nostro segno in questo meraviglioso tempo che è la nostra vita che ha un inizio e una fine vogliamo lasciare il segno dell'aratro sul terreno dell'opera di Dio vogliamo lasciare anche il nostro segno per le nuove generazioni è un tempo breve è la nostra vita e hai solo questo tempo per lasciare il tuo segno un segno che rimane un segno che parla non solo del lavoro che stai facendo ma anche che stai camminando con Gesù guardate quanto è bella l'opera di Dio tu cammini con Gesù Gesù guida i tuoi passi tu hai riposo non sei più oppresso hai il vero riposo che proviene dalla sua presenza cammini nell'opera sua e mentre cammini nasci un segno un segno che porterà frutto un segno visibile non so se avete mai visto dopo che viene arato un campo quei solchi profondi che poi servono per piantare i semi sono visibili anche dalla strada certo ora non ci sono più i buoi usano i trattori però se guardate bene si vede il segno questi segni che lasciano lascia l'aratro è il segno del tuo lavoro anche del tuo lavoro è il segno che dice che sei passato di là con Gesù e io voglio lasciare anche il mio segno sapendo che non è ovviamente per la mia forza e le mie capacità ma è perché sono attaccato a Gesù è perché sto camminando con lui che posso lasciare un segno quanto è bello fratelli trovarsi alla fine della propria vita e dire ho fatto quello che ho potuto fare ho fatto quello che Dio mi ha chiesto di fare ho lasciato anche io un segno invece quanto è brutto trovarsi alla fine della vita e dire non ho fatto nulla ho sprecato questo tempo non ho lasciato niente non ho camminato con Gesù ho fatto di testa mia e ora lascio questo mondo mi troverò davanti a Gesù e dovrò dire a Gesù che non ho fatto nulla ho sprecato il tempo noi vogliamo il nostro tempo adoperarlo per l'opera di Dio camminando con Gesù c'è tutto da guadagnare non aver paura fratello sorella di investire nel Signore è il miglior investimento che puoi fare della tua vita avendo una sola vita è una sola possibilità io la voglio mettere nelle mani di Dio e dire Signore voglio camminare con te anche perché so perché me lo dice la tua parola e l'abbiamo letto che il tuo gioco è dolce e il tuo gioco è un gioco dolce e il carico è leggero continuiamo ad andare avanti amèn alziamoci in piedi grazie 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 grazie